In un'impostazione di coniugare il nostro lavoro, di lavorare assieme, perché questo momento particolare ci convince che nessuno si salva da solo e che la collaborazione fra comuni è fondamentale sotto tutti i punti di vista ormai, nessuno escluso. Ringrazio la dottoressa Canale per l'ottimo lavoro che svolge in questo municipio e ringrazio l'assessore Stanzani, il presidente Stanzani, perché è lei poi in verità che mi conduce in questi altri sentieri che per me sono molto sconosciuti, visto che non sono un esperto. Mi viene da pensare però a forse una delle poche cose buone, almeno dal mio punto di vista, che hanno riguardato la modifica del titolo quinto della Costituzione, ossia quando si dice che i sindaci e le amministrazioni hanno come compito quello di educare gli adulti, che è una cosa che sembra strana, che sia da un bambino, invece a volte noi abbiamo un compito di cui ci dimentichiamo sempre ed è quello dell'educazione degli adulti.